In apertura l'annuncio dell'Arcivescovo Nosiglia, il prossimo 10 agosto, la Sindone sarà esposta in via del tutto eccezionale per un giorno. Un evento pensato per i ragazzi che parteciperanno poi all'incontro dei giovani italiani con Papa Francesco. Matteo Spicuglia. Il Via Libera della Santa Sede è arrivato nelle scorse settimane, tecnicamente non sarà un'ostensione vera e propria, ma la Sindone tornerà a mostrare ancora una volta il suo significato e anche il suo mistero. Un giorno appena, il 10 agosto dell'anno prossimo, in Duomo, un evento unico rivolto esclusivamente alle nuove generazioni, prima del grande incontro di Papa Francesco con i giovani italiani dell'11 e 12 agosto a Roma. Le tappe di avvicinamento al Sinodo dei Vescovi di ottobre, dedicato proprio ai giovani. L'annuncio è stato dato dall'Arcivescovo Cesare Nosiglia, custode pontificio della Sindone. Sono attesi migliaia di ragazzi delle diocesi del Piemonte, della Val d'Aosta, delegazioni da Francia, Spagna e Polonia, ma l'incontro torinese è aperto anche ai giovani delle altre regioni italiane. Faremo in modo che questi ragazzi possano trovarsi bene qui a Torino e abbiano anche la possibilità di fare nella città un pellegrinaggio alle sedi dei nostri santi, Don Bosco, il Gotorengo. Pellegrinaggi a piedi, veri e propri cammini, un incontro di spiritualità alla reggia di Venaria il 9 agosto, poi faccia a faccia con la Sindone nella Cappella del Duomo, a tre anni dall'ultima ostensione. La dimensione di fede avrà il primato, l'amore lascia il segno, il motto scelto dalla diocesi, con il sogno che anche i giovani possano fare altrettanto.